Un terremoto di magnitudo 4.2 avvenuto alle ore 3.34 nella zona di mare vicino alla costa siracusana. Sisma è stato registrato dagli NGV a largo di Siracusa, a una profondità di 33 km a 42 km dalla provincia Aretusea. Tantissime le chiamate spaventate dei cittadini, la scossa è stata violenta e avvertita da gran parte della popolazione.